Richiede il reddito di cittadinanza e dopo qualche mese finisce a processo, ma viene assolta. È successo ad una 35enne originaria della Slovacchia, ma residente a Fano, che aveva presentato la domanda per ottenere beneficio su consiglio del CAF. Il centro di assistenza fiscale aveva provveduto ad elaborare l'ISEE. Per il calcolo di quest'ultimo, presentato a febbraio 2020, la donna aveva inserito nella dichiarazione sostitutiva unica anche l'ex compagno come componente attratto al nucleo familiare beneficiario del contributo in qualità di genitore della figlia anche se non convivente. Nei mesi successivi, poi, la donna è stata convocata dalla Guardia di Finanza. Le fiamme gialle l'avevano informata di aver omesso di comunicare all'interrogatore la sopravvenuta detenzione dell'ex compagno finito in carcere il 7 ottobre dello stesso anno. In base alla legge, infatti, la comunicazione era rilevante dal punto di vista della scala di equivalenza che si applica alla formazione dell'importo del reddito dei cittadinanza aspettante. Gli si contestava, quindi, di aver percepito indebitamente, dall'ottobre 2020 all'aprile 2021, la somma di 1.400 euro. Al processo, però, l'avvocato del Foro di Pesaro, Vincenzo Maione, che ha difeso la donna, è riuscito a dimostrare le diverse criticità, la complessità della norma e il fatto che la 35enne non fosse a conoscenza della carcerazione dell'uomo con il quale non aveva più rapporti. E ieri il giudice per le indagini preliminari, Giacomo Gasparini, ha accolto le valutazioni dell'avvocato pronunciando sentenza di assoluzione.